Ciao a tutti da Francesco, potatore certificato. Oggi sono tornato nell'oliveta abbandonata, era tantissimo che non ci venivo e voglio iniziare dalla pianta numero uno che vedete qua dietro di me, quindi ora andiamo ad analizzarla e a fare la potatura. Vi ricordo che è stata potata la prima volta praticamente due anni fa con una potatura ad agosto, quindi l'anno dopo praticamente non abbiamo fatto quasi nulla perché ovviamente avendola fatta tardi la potatura, o era luglio, agosto, insomma non ha praticamente ributtato quasi nulla e quest'anno invece ovviamente è l'anno dove bisogna iniziare ad andare a fare un po' di selezione soprattutto dei succhioni, quindi ora andiamo subito a vederla. Ti ricordo che se sei interessato a un guadagno extra scrivimi alla mail che ti lascio qua da qualche parte. Allora cerchiamo di andare a vedere un po' questa pianta, qui davanti abbiamo, ci copre tutta la visuale questa branca, questa se vi ricordate era impostata a tre branche, ok? Io sto portando il treppiede che non è comodissimo. Allora qui abbiamo come vedevamo appunto questa branca che per ora ci funge da secondaria che va a occupare questa zona, tra l'altro dovrò tagliare tutte queste intestanti perché si sono di nuovo arrampicate su. Come possiamo vedere la pianta ha ricacciato qualche pollone alla base e diversi succhioni sul dorso, come è normalissimo che sia in fase di riforma, ci mancherebbe. Lì vi ricordo era stato fatto un grossissimo taglio, non da me ovviamente, una capitozzatura che ha portato a tanti problemi al tronco principale. Ora vediamo se riesco, allora qua sopra abbiamo questo percorso che non è niente male, ma ho già notato una cosa interessante che vediamo se riesco a farvi vedere di qua. Allora lì sopra praticamente questo succhionetto potrebbe essere ottimo per sostituire la cima che tende ad allargarsi troppo e va troppo vicino all'altra zona dell'oliveto, quindi potremmo fare un taglio di ritorno su questa cima e lasciare questa. Poi ovviamente dobbiamo fare un po' di selezione perché lì sono cresciuti troppi succhioni. Poi andiamo a vedere un po' di qui, poi devo togliere anche queste cavolo di infestanti, vediamo se riesco ad averci un calcio, spaccarla questa. Ecco fatto, molto meglio. Poi qua ovviamente bisognerà tagliarci l'erba. Allora anche di qua un po' di poloni alla base, qui abbiamo l'altra branca con questa che avevamo lasciato forse provvisoriamente ma a questo punto non mi piace più tanto perché si va a ombreggiare questa sotto. Comunque qui abbiamo la nostra primaria e anche lì abbiamo questa secondaria, questa, che tendenzialmente è un po' troppo grossa per star lì sopra. Chiaramente al tempo non l'avevo tolta perché aveva pochi rami, invece qua sotto si sta rinfoltendo, anche qua sotto ci sono tanti germogli nuovi, come è normale che sia. Andiamo a vedere la terza branca. Qua abbiamo un sacco di succhioni che andrò a togliere velocemente, però ce ne sono anche di quelli interessanti, tipo questi, laterali, ottimi, però ce ne sono anche di quelli che puntano verso il centro che vanno tolti. Peraltro intelligentemente ho lasciato la forbice a casa, quindi sarà un po' più complicato. Allora qua abbiamo anche, vediamo se riesco a far vedere meglio di qua, abbiamo in alto questo ramo che nasce verticale, poi si piega che non è per nulla buono. Anche questo per ora lo lasceremo perché qua sotto non abbiamo praticamente nulla, se non questa, qui ora appunto nascerà qualcosa sotto, però dobbiamo iniziare ad andare anche un po' a fare in modo che la linfa rimanga in basso, non vada troppo in alto, attirata da tutte le foglie che ci sono. Quassù vedremo se troviamo il modo di accorciarci un po' perché la cima è troppo spostata lateralmente. Chiaramente io tendenzialmente cerco di lavorare solo col seghetto per far prima e anche perché oggi comunque arrivavo, ho dovuto fare un pezzo a piedi perché ho dovuto lasciare la macchina un po' lontano, quindi non potevo portarmi tanti attrezzi. Se avete una forbice telescopica in questi casi per rifinire le cime è molto più facile e pratico. Allora ragazzi, importantissimo soprattutto per un professionista la sicurezza, quindi caschetto con visiera che uso quando mi avvicino ai rami e un paio di guanti comunque io ho un caldo bestia quindi sono anche se siamo nemmeno ad aprile siamo a fine marzo quindi sono in maniche corte però i guantini e ovviamente il mio seghetto. Quindi iniziamo dal togliere un po' di polloni alla base. Bene, la parte dei polloni non vi ho fatto vedere più di tanto perché la sappiamo fare tutti. Ora c'è questa parte qua centrale, quindi andiamo a vedere un po' di pulire la zona centrale dove bisogna perdere il meno tempo possibile e tagliare il meno possibile. Ovviamente ripeto qua con una forbice si può fare una veloce selezione lasciando, più che tanto andando a togliere quelli che svetano di più, i succhioni quelli più alti. Gli altri si possono anche, soprattutto in questa fase, lasciare tutti anche perché poi andremo a selezionarli gli anni successivi per capire qual è la branca secondaria migliore che si viene a creare. Quindi io che, ripeto furbamente, ho lasciato a casa la forbice mi limito a tagliare quello che riesco facendo dei tagli di questo tipo cercando di preservare quelli più piccoli di succhioni che comunque, come sappiamo, hanno una loro funzione. ci sto per ora anche riuscendo. Quasi è un po' più difficile, devo infilarmi qui con un po' di tecnica si fa tutto via i succhioni più vigorosi questi, vedete come si praticamente sono nati proprio orizzontali questi oltre al fatto che sono morbidi, quindi sono veramente ottimi questo no, questo è verticale poi abbiamo anche, questi già sono morbidi quindi, cioè, li possiamo anche lasciare non ci danno fastidio chi dice che assorbono energia non capisce nulla allora, andiamo a vedere qua sul dorso sul dorso togliamo quelli più grossi solo quelli più grossi, mi raccomando non tutti, non perdiamoci a far tagli minuscoli io qua, ad esempio, ne vedo due o tre ecco questi che sono i più rigidi poi ci andiamo a basare più che altro sulla parte alta ora, vi faccio vedere anche di qua allora, come dicevo anche qua abbiamo un po' di succhioni qua ne abbiamo qualche d'uno piccolino che è nato orizzontale quindi questo in futuro potrebbe darci una branca laterale una branca secondaria questo è nato un po' verticale però è dolce, si è piegato per ora lo lasciamo mentre vado a togliere questi qua che sono duri, duri che non si piegano manco pare che nell'olivo non vanno piegati i rami ma li vedete proprio che sono da togliere quindi vado a fare i tagli un po' precisi diciamo per quel che si può con il seghetto e me li vado a togliere ok per fortuna questa lama è veramente top quindi si riesce anche a fare dei tagli piuttosto precisi ora vado un attimino a fare il solito lavoro qua dietro ok ok ragazzi mi raccomando diffidate da chi su youtube o comunque nella vita normale vi dice di saper potare perché lo fa da 10 20 30 50 anni non vuol dire nulla basatevi su quelle che sono le conoscenze che abbiamo che ad oggi sono molto precise quindi mi raccomando non svuotate la pianta di tutti i succhioni interni perché hanno una loro funzione al di là del fatto che le foglie servono per fare la fotosintesi quindi alla pianta comunque servono non è che se voi lasciate qualche succhione vi fa meno olive la pianta se voi li togliete la pianta non farà altro che cercare di ricrearli perderete energie per la produzione quindi proprio c'è chi non ha le basi per capire come funziona un olivo allora ora che abbiamo visto un po la parte bassa iniziamo a spostarci in alto allora ragazzi io inizierei proprio da questa branca che ora vi faccio vedere questa parte laterale siccome anzi ora per andiamo un po vedere meglio va bene lasciamo un attimino indietro non voglio portarmi troppo avanti prima delle necessarie ora metto la videocamera qua e andiamo a vedere come più che altro cosa possiamo fare qui innanzitutto io parto dal togliere ciò che è cresciuto sul dorso che sta diventando troppo grosso ora mi faccio un esempio no vedevo che c'è questo rametto che va tutto interno è un ramo già bello costruito quindi questo è meglio toglierlo forse l'avevo lasciato per un'ipotetica costruzione di una cima ma è troppo interno non mi piace non va bene quindi questo lo tolgo e già con questo taglio insomma abbiamo liberato questi succhioni sono ancora piccoli e morbidi li lascio non li sto a togliere ora andiamo a vedere ancora un po più in punta è una pianta molto spoglia ancora quindi anche le branche secondarie non occorre andare a distruggerle ora quello di cui volevo parlare che vi ho fatto vedere anche prima e ora vi faccio rivedere con uno zoom più approfondito è proprio questo allora questa questa parte va troppo esterna io voglio rientrare qua ora vediamo se con uno zoom più cattivo riesco troppo ok quindi vado a fare un taglio di ritorno forse riesco anche a mettermi un po complicato comunque si vede abbastanza ora vado a fare lì un taglio di ritorno per togliere la parte che sborda così andiamo a rientrare un po perché questa branca va troppo esterna semplicemente ora sto usando il seghetto da tre metri però è aperto a metà quindi sarò buono fatemi fare di conti ora per favore ora è un taglio abbastanza piccolo dovrei riuscire a farlo senza fare anche l'incisione sotto voi fate sempre l'incisione sotto perché rischiate sennò di strapparlo chiaramente avere un seghetto che taglia bene è un bel vantaggio ecco ok perfetto allora così abbiamo accorciato ora vediamo un po come si vede sì perfetto ora vado per non avere concorrenti diciamo su quella che è la cima che abbiamo deciso a togliere appunto tutte le concorrenti cioè tutti i rametti che vanno a farmi competizione quindi a partire da questo qua dietro ok questo seghetto è fantastico perché con un unico taglio spesso si fa tutto e già praticamente così potrebbe quasi andar bene però se ancora qualche cosina che non mi piace se qualche succhionetto che qua a questa altezza preferisco che non ci sia esattamente dov'è andato poi cadrà c'è questa parte qua che mi rientra in dentro che non serve a nulla però la devo tagliare da sotto e devo allungare un po' il seghetto dai perché sono un po' al limite così comunque come vedete con tre metri di seghetto la maggior parte degli olivi si fanno chiaramente se siete da olivi secolari no soprattutto olivi alti ok allora vediamo ok perfetto ok ora posso anche riabbassarlo perché così mi è un po' scomodo iniziano ad essersi un sacco di moscerini fantastico e va bene per ora io ancora uno lo tolgo questo qua è troppo troppo mi svetta troppo mi dà un fastidio ok e ora diciamo che sicuramente anche dall'inquadratura si vedrà che esatto la cima è molto più definita e non ho fatto una stroncatura è un taglio di ritorno perché ho mantenuto un diametro equilibrato allora andiamo un attimo a vedere un'altra cosa allora prima dicevo di questa branca la cosa che mi preoccupa di questa branca secondaria è che in sostanza qua sotto vorrei che crescesse qualcosa di queste e se oddio luce ora ne hanno quindi forse è ancora prematuro andare a intervenire qua dai lo facciamo il prossimo anno meno si taglia meglio è ora invece voglio togliermi per forza di cose ora vi faccio vedere devo sistemare il cavalletto allora quello che voglio togliermi ora è questo perché mi va a occupare una zona che non c'entra nulla quindi questo va tolto e tolto quello la pianta sarà molto più chiara ola ci voleva proprio a questo taglio si vede che così è molto meglio già che siamo su questa branca andiamo proprio analizzare questa allora di qua non si vede benissimo ma qua la pianta si divide in una biforcazione io l'avevo lasciata entrambe per il semplice motivo che quella diciamo verso sinistra ora vediamo se magari così si vede meglio se non mi si incastra ecco praticamente quella più bassa e a sinistra ha una direzione migliore vero anche è che qua in mezzo manca una branca e sarebbe meglio che ripartisse più o meno da quella zona qua quindi possiamo anche scegliere perché di qua purtroppo nella branchetta che avevo lasciato per vedere se rispuntava una cima non è spuntato nulla quindi a quel punto lascerei e andrei di là così lasciamo tutto lo spazio sotto per far sviluppare i rami e poi se in futuro butta qualcosa di carino in questa zona di qua che viene verso di noi lo lasciamo quindi mi vado a fare quel taglietto lì come vedete capita spesso di almeno per quello che è il mio stile di rimandare alcune scelte all'anno dopo e valutare poi in base a cosa succede quindi tanto bisogna fare mille valutazioni ora me la sto facendo semplice io ho fatto la valutazione in base al fatto che la pianta è spoglia ok ora già che sono in questa zona mi tolgo qualche ramo che va verso l'alto che non mi serve come questo questi sono abbastanza piccoli li posso anche lasciare non mi interessa ora io direi che andiamo a vedere questa pianta un po più dal davanti c'è questa branca io francamente questa non noto nulla di sbagliato mi piace la cima è equilibrata quindi la lascio stare mentre di qua abbiamo sempre quel problema come avevamo appunto anche in questa che abbiamo appena fatto abbiamo il problema legato proprio a mi stanno andando tutti i moscerini in bocca a questa che è in una posizione che non mi piace io l'avevo lasciata se non ricordo male proprio per una questione di equilibrio ma a questo punto se la possiamo andare a togliere perché non ci serve più a nulla almeno facciamo sviluppare come dicevo prima le branchette sottostanti allora faccio il taglio in due volte solo perché non voglio che mi cada addosso alla videocamera così riesco a appoggiarla e la butto di sotto ora rifilo questo taglio o forse l'avevo lasciata anche eventualmente per ricreare qua la cima ma non c'era nulla di buono via ok allora andiamo a vedere un attimo ora come si sviluppa questa branca allora abbiamo questa secondaria che per ora la lasciamo perché praticamente non c'è nulla lì su c'è un po' di confusione e soprattutto quello che noto è che anche qua la pianta va molto esterna proviamo a vederla dall'altro lato allora forse di qua si vede un po' meglio ci vorrebbe qualcosa dove fare un taglio di ritorno però eh minchia non vedo nulla non vedo non vedo punti dove far crescere una cima quindi sapete che si fa rimandiamo al prossimo anno quindi cioè molto semplicemente la pianta l'abbiamo fatta e secondo me abbiamo raggiunto un discreto equilibrio abbiamo tolto almeno possibile togliendo quello che era da togliere che è l'obiettivo e quindi senza perdermi in troppi in troppi discorsi vi rimando ai prossimi video per chi vuole vedere ulteriori video più specialistici più tecnici vi lascio il link in descrizione dei vari servizi didattici e niente seguitemi anche su instagram dove vi faccio vedere in anticipo tutte le novità e ci vediamo a presto ciao ciao